Il Kenyan. Approfittando della instabilità generale creata dalla Corea del Nord, e dalla sua escalation nucleare, la Russia non è stata a guardare. Da un lato Putin non poteva permettere certo che gli alleati coreani sorpassassero la Russia in potenza nucleare, e la Corea in un anno avrebbe tranquillamente potuto produrre gli 8300 ordigni nucleari che ha attualmente la Russia. Dall'altro ha approfittato della situazione per costruire il Kenyan. Che cosa è il Kenyan? Se fosse rilevante solo per la sua potenza, gli Stati Uniti lo avrebbero oggi anche loro. Ma il Kenyan è un'arma nucleare molto particolare. Oltre ad essere cento volte più potente della bomba di Hiroshima, essa è estremamente miniaturizzata. Uno speciale sommergibile che la Russia ha contestualmente realizzato, è in grado di portare ben quattro Kenyan. A sua volta questo speciale sommergibile è in grado di viaggiare a profondità marittime dove non è intercettabile da alcun sistema, anche quelli americani più sofisticati. Il Kenyan, negli ambienti diplomatici, è stato battezzato come l'arma finale. In sintesi la Russia è in grado di distruggere completamente gli Stati Uniti di America, senza che questi possano avere alcuna possibilità di risposta. Facendo arrivare più Kenyan attraverso questi sommergibili invisibili, e facendoli arrivare da entrambe le sponde dell'oceano, gli Stati Uniti d'America verrebbero diluviati in poche decine di secondi. Un solo Kenyan è in grado di sollevare una onda di 500 metri da sola in grado di sommergere tutti gli Stati Uniti. Ciò in poche decine di secondi, senza lasciare alcuna possibilità di replica. Questo un solo Kenyan. Pensiamo a 24 Kenyan sulla sponda atlantica, e 24 Kenyan sulla sponda pacifica. Per i quali bastano 6 sommergibili per ciascuna sponda. Ecco perché oggi la Russia è al di sopra di tutti. Se anche gli Stati Uniti costruissero il Kenyan, avrebbe un effetto non superiore. data la posizione e consistenza geografica della Russia, a quello delle comuni armi e missili nucleari. Ed inoltre sommergerebbe solo una piccola parte della Russia, ed insieme a questa piccola parte anche tutta l'Europa intera, alleata storica degli Stati Uniti. Questi i fatti. I veri fatti. Grazie. 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 Grazie.